I fattori esterni sono non importanti, forse di più, nel futuro delle malattie infiammatorie croniche, soprattutto nella terapia. Questo perché ovviamente i pazienti, tutto ciò che circonda e che viene a contatto con i pazienti, tutto ciò che va dall'alimentazione all'inquinamento, ha un ruolo cruciale nel determinare lo sviluppo, ma anche quello che è la progressione della malattia stessa. Il futuro delle terapie sarà quello anche di sfruttare questi elementi. In primo luogo la dieta, il microbiota intestinale e in secondo luogo fattori che possono essere in qualche modo modulabili, come l'inquinamento. Tutti questi fattori messi insieme però, e questa sarà l'ulteriore sfida, perché modularne solo uno a volte potrà non essere sufficiente, sarà effettivamente la risposta futura per molti pazienti con IBD e non solo, ma anche per le malattie immunomediate in genere.